Il punteggio dopo questa rete, se continua così rischia davvero l'eliminazione dall'EA Shield. L'allenatore non sarà per niente contento del gol subito e credo che avrà qualcosa da rivire alla difesa al termine della partita. Una cannonata, un missile che non ha lasciato scampo al portico. Grazie per la visione!